... Lunedì 22 marzo 2021, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Siete sul canale 17 e sul digitale terrestre c'è occhio ai giornali, la rassegna stampa, anzi il commento alla stampa del giorno. Anche oggi abbiamo selezionato per voi le pagine, tra quelle di sport del lunedì, le pagine più interessanti, quelle che richiedono una maggiore attenzione, anche un migliore attenzione perché ci sono delle notizie importanti anche questa mattina che andremo a vedere tra poco. Intanto andiamo a vedere però prima il santo del giorno, poi anche il tempo. Oggi è Santa Lea di Roma, il sole è sorto alle 6.10 e tramonterà alle 18.25. Adesso vediamo il tempo. Questa mattina TrebbiMeteo.com pubblica un'immagine che sa di pieno inverno, infatti l'Italia è ancora in pieno inverno con temperature molto rigide, fa freddissimo ancora, siamo intorno ai 4 gradi perlomeno qui sulla costa. Neve anche a bassa quota, l'abbiamo vista qualche spolverata ancora nei giorni scorsi, quindi questa settimana sarà ancora caratterizzata da freddo e altre nevicate, anche se poi per le marche in realtà oggi avremo una giornata di sole così come nei prossimi giorni. Vedete questo è un po' lo spaccato del centro e nord Italia, c'è ancora qualche nevicata soltanto nella parte centrale, mentre domani, ecco questa è la giornata a mezzogiorno, poi alle 18 e alle 24. Quindi ancora per questa settimana avremo freddo, ma il sole. Allora, subito i giornali, vediamo l'apertura del Corriere Adriatico. AstraZeneca, 100 danno forfè, ovvero in 100 che sono stati chiamati per fare il vaccino, quando hanno saputo che era AstraZeneca hanno detto no, noi non lo facciamo, non vogliamo AstraZeneca. È ripartito a Pesero, al Monaldi, ieri in programma quasi 700 somministrazioni delle dosi anglo-svedesi, quindi AstraZeneca, tante le domande, i dubbi dei familiari degli over 80, l'area vasta ha chiamato quindi i riservisti, anche perché abbiamo già detto, questo è fondamentale, quando dite no sappiate che poi dopo scatta una ricorsa a chi prende il vostro posto, perché naturalmente quella dose di vaccino non può essere sprecata, quindi va utilizzata. A centro pagina invece, Lago Penserini, addio agli alberi, chiesti chiarimenti al Comune e alla Regione. Di spalla invece gli imprenditori, imprenditori marchigiani, guardate questa fotografia, lui è Gabriele Micini, titolare della GSG, che ha detto sì al protocollo della Regione, e non solo, dice se mi danno i vaccini non solo li somministro ai miei dipendenti, quelli dell'azienda, ma anche a tutti gli abitanti di Appignano. Con lui molti imprenditori sono pronti a spendere dei soldi pur di allargare la prevenzione e quindi di dare una mano alla sanità. Intanto a Pesaro il sindaco premia Jordan Valdinocci per la sua impresa, parliamo di sport, e poi a Guzzi, a Fano che sui rifiuti dice la gestione di Ata è da riequilibrare, e sempre da Fano le chiavi della città donate dal sindaco Seri al primario di Ostetricia per i nati del 2020. La Vis lotta contro la leader, qui siamo allo sport, ma alla fine deve arrendersi, il Padova prima soffre e poi sale in cattedra, ora testa al derby di domenica contro il Fano. Il Fano che cade però anche a Verona, la salvezza adesso si complica. Andiamo a vedere il Carlino di Ancona, a centro pagina, la fotonotizia, le festicciole, le festicciole dei furbetti, famiglie con bambini in un parco di Falconara, blizze dei carabinieri, militari, sono stati chiamati da alcuni residenti, fuggi, fuggi, pensate, con i figli nascosti, tre cespugli, chiuso un altro locale etnico ad Ancona, il proprietario era senza mascherina, poi controlli anche a Porto Novo. Mentre attenti, dice il governatore Acquaroli, la curva cala lentamente, il governatore è preoccupato per il numero dei contagi, ancora troppo alto, gli ospedali, dice, sono in difficoltà. Per quanto riguarda lo sport, l'eccellenza, parliamo ancora di calcio, l'eccellenza oggi torna in campo, tornano quindi l'Anconitana, la Vigo Senigallia, la Iesina, che riprendono anche ad allenarsi. E dal Carlino invece di Macerata, ancora, vaccini, file, proteste e denunce, no, qui siamo, scusate, su quello di Pesero, vaccini, file, proteste e denunce, Monaldi, altra giornata caos, troppa gente vicina, tanti non volevano AstraZeneca. Questi sono gli anziani che ieri erano appunto al centro Monaldi di Pesero della Celletta, una sede che si sta rivelando sempre meno adatta, ma che, come abbiamo detto più volte, verrà sostituita con un altro posto sicuramente molto più capiente. Invece la VIS contagiata tutta la squadra giovanile, 20 positivi tra i ragazzi under 20 con meno di 20 anni e alcuni membri dello staff, il focolaio è partito dallo spogliatoio. Parole pesanti contro l'assessore Don, il post di Malandrino scatena la reazione del PD, ma era di un anno fa, e poi il risico delle aziende, Aset e Marche Multiservizi, la fusione vale 17 milioni di euro. A Urbino il grido di dolore del parrucchiere chiuso, siamo ormai al tracollo, e poi per chi ha più di 80 anni e che non possono muoversi da casa e quindi devono per forza vaccinarsi stando semplicemente a casa. I medici sono mobilitati per fare il siero e c'è anche quello di Moderna. L'Almafano spera ma naufrega a Verone, poi VIS primo tempo, super poi il Padova di Laga. Andiamo sul Carlino di Macerati, invece. La fotonotizia è sempre allarme rosso, mille casi nella seconda settimana di restrizioni, in provincia le altre tre vittime e 172 contagiati, l'analisi di Google sui telefonini con i divieti dimezzati gli spostamenti legati al tempo libero. 15 positivi invece dopo la festa di laurea, un focolaio a Trodica di Morrovalle, due quarantenni sono stati ricoverati in terapia intensiva, insomma tutto questo non è accettabile. Intanto AstraZeneca è un vaccino ad ostacoli, l'abbiamo detto più volte, metà dei prenotati non viene. Corsi, che abbiamo intervistato anche noi nel Tg qualche giorno fa, dice che qui prevale ancora la paura. E intanto da Civitanova il racconto di Cormio, che è il direttore sportivo di una grande squadra di pallavolo che è la Lube, dice che il Covid ti porta alla depressione, ma sono guarito, a casa con l'ossigeno ho avuto una brutta polmonite bilaterale. Allora, dicevamo del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che in un post si è detto preoccupato, preoccupato perché le cose, cari marchigiani, non vanno assolutamente bene. Siamo sul cosiddetto plateau, siamo sulla parte alta, non vorrei dire della montagna perché quando si va nella parte alta della montagna si gode di uno spettacolo meraviglioso e qui non è il caso di fare questo paragone. Diciamo allora che siamo sul plateau di una discarica, dove puzza, dove le cose sono brutte da vedere, quindi bisogna scendere il più presto possibile. Questo forse come immagine vale di più, ma siamo comunque in alto. Adesso piano piano stiamo scendendo, ma troppo lentamente. Questa è la preoccupazione del governatore. Attenti, dice, la curva dei contagi flette molto lentamente sul Carlino di oggi. Acquaroli non nasconde le difficoltà, la pressione ospedaliere è molto alta e ci sono positivi nelle fasce d'età più basse. Addirittura nella scorsa settimana, per alcune fasce di età, nonostante le scuole chiuse, continuava a crescere. Ad un anno da inizio di questo incubo, aggiunge il Presidente Acquaroli nella sua pagina Facebook, sono comprensibili la stanchezza e l'esasperazione e le conseguenze sociali ed economiche di queste restrizioni. Ma la salute resta assolutamente l'obiettivo prioritario che dobbiamo perseguire. Al Monaldi, invece, il resto del carino, pagina 2, edizione di Pesero. Roberto Damiani è andato ieri al Monaldi e così ha intervistato, ascoltato, ha guardato, ha fatto l'ottimo cronista e ha descritto un po' le varie situazioni. E lo fa, come sempre, essendo decano dei giornalisti, in maniera impeccabile. E allora, sentite come attacca il suo pezzo. La voce dell'addetto alle chiamate è da tombola di fine anno. Chi ha il 49? Ho detto 49. C'è il 49? Non c'è. Il 50? Chi ha il numero 50? Da un gazebo estivo, pieno di gente avvolta nei cappotti, si sente una vocina. Io? Avanti, venga, si mette in fila davanti al tavolino dell'operatore per dare i suoi dati. E l'addetto inizia l'accettazione. E questo è quello che è successo per forse 799 volte, no, forse un po' troppo, però comunque c'erano 799 persone in lista ieri per essere vaccinate al Centro Sociale Monaldi di Via del Cinema a Pesero. Il 10% di queste 799 persone ha rinunciato appena ha saputo che avrebbe ricevuto AstraZeneca. Gli altri invece si sono messi in fila ad aspettare il turno in una bolgia di gente degna dell'ingresso di uno stadio. E queste sono alcune fotografie che fanno capire un attimo come è andata ieri la storia. Sono qui con il mio vicino di casa, dice qualcuno, e ho trovato la stessa confusione vista tre settimane fa. E poi il racconto di Ruggero Di Paola. Ruggero Di Paola ci telefona alle 18.30. Evidentemente mia mamma Anna, scusate, di 90 anni, di Sant'Angelo Invado, è stata portata oggi da mio fratello al Centro Monaldi. Sono arrivati alle 18 e si sono trovati un muro di persone davanti. Poi gli hanno detto che c'era solo AstraZeneca, che mia madre non voleva fare, mentre noi sapevamo che ci sarebbe stato Pfizer. Nessuna informazione, nessun avviso alle persone, sconcio, inammissibile. Sono un avvocato, farò un esposto alla procura. Prenotati Pfizer, c'è AstraZeneca, sempre dal carino di Pesero, pagina 3. Non lo volevo, ma qualcuno dice ormai sono qui, che devo fare? Genitori e figli in fila. Un medico dice mia mamma ha 88 anni, dovrebbe usare quella fiala. Io non ci sto, non voglio che prenda la febbre. Un altro caso, ho delle patologie, mi faranno Pfizer fra tre giorni. E di sicuro, tra le varie persone intervistate ieri dal resto del Carlino, tanti anziani in questi gazebo, tra paure, dubbi e convinzioni. C'è anche appunto chi in qualche modo aveva gli occhi un po' sbarrati, gli occhi di chi doveva affrontare un qualcosa dall'esito quasi incerto. nel senso che c'era il timore, la paura. Ma insomma, come abbiamo detto, poi, ripeto, evidentemente non è bastata la testimonianza forte del commissario straordinario, il generale Figliuolo, il capo della protezione civile. Tra qualche giorno probabilmente anche lo stesso Premier, Mario Draghi, si farà vaccinare davanti alle telecamere con il vaccino AstraZeneca, proprio per dare un segnale forte, soprattutto di non avere timore, di non avere paura. Poi chiaramente bisognerà farsi comunque, prima di fare questo vaccino, farsi visitare, spiegare bene se ci sono delle patologie pregresse, e quindi farsi indirizzare verso il miglior vaccino da fare. Intanto la visita sorpresa di Carloni ieri a Marche Nord, la terapia con i monoclonali è molto efficace, ha detto il Vice Presidente della Regione Marche, che, lo ricordiamo, è stato già colpito dal Covid nella prima ondata, quando ancora veramente non si sapeva granché, e insomma ha avuto anche lui il bel da fare. Vaccini a casa, in arrivo anche Moderna, l'altro vaccino di cui si parla poco in realtà, questo Moderna, si parla molto di Pfizer, si parla molto di AstraZeneca, ma di Moderna un po' meno, ma comunque è uno di quelli che viaggia tranquillo. Da oggi le dosi sono disponibili per i medici nelle farmacie dei distretti, insieme ad AstraZeneca, a Urbino la quota più alta di adesione. Paolo Marchioni dice, io avviserò i sanitari sui rifornimenti, chi viene prima se lo prende. E la testimonianza di un camice bianco, di un medico che dice, prima inizio, prima finisce l'incubo, voglio ridurre i rischi al minimo. Lo aveva detto e lo manterrà, anche se con una settimana di ritardo causata dal blocco dell'AIFA su AstraZeneca, ma Riccardo Olmeda, lo vedete, 64 anni, medico di base, 1500 assistiti, due ambulatori, oggi alle 15 si rifornirà in via Alfano alla farmacia dell'Area Vasta per ritirare una boccetta di AstraZeneca e una di Moderna e quindi iniziare da domani, martedì, a vaccinare i suoi assistiti ultraottantenni e la fascia di coloro che sono particolarmente vulnerabili. Chi sono? Gli ultrafragili, quelli trapiantati, diabetici, cardiopatici, importanti e naturalmente altri. La squadra invece della VIS, non la prima squadra, la squadra più giovane, le giovanili, la primavera, così viene chiamata, purtroppo è tutta con il Covid, quasi tutti, tranne l'allenatore che è negativo, gli altri sono tutti positivi. Circa 20 contagiati, tre ragazzi e lo staff, allenamenti sospesi, l'intera squadra è finita in quarantena, lo spogliatoio è stato acceso, o meglio, lo spogliatoio ha acceso il focolaio. Il team manager, che è Franco Balsamini, dice, il giorno dopo, una seduta al campo, abbiamo fatto i test, e sono emerse tutte le positività. Il contagio è deflagrato lo scorso martedì, giorno del rientro agli allenamenti, abbiamo appreso di un nostro giocatore, che aveva in casa familiare, che avevano contratto il virus, e lui stesso è risultato positivo. E da lì in poi, poi capite, insomma, come vanno le cose. È successo il patatrack. Intanto, e qui tiriamo un attimo un po' di sospiro, di sollievo, cominciamo a guardare un pochettino anche un po' più in là, un po' come abbiamo fatto anche la settimana scorsa, cerchiamo di pensare a giugno, sì, giugno, quando giugno questa situazione sarà completamente, ci auguriamo, diversa, quando potremmo dire che il virus alla Zangrillo sarà clinicamente morto? Probabilmente sì. Intanto, oggi, dal Carlino, ci arriva questa uscita, che speriamo sia vera, perché speranza, il Ministro ci crede, estate quasi normale, gli italiani già prenotano le ferie. Progressivo miglioramento, avremo meno restrizioni, turismo, disastro a Pasqua, ma i segnali di ripresa ci sono. Quindi, come dire, abbiamo una notizia buona e una cattiva. Quella cattiva, chiaramente, ce la sapevamo già, avremo una Pasqua come quella dell'anno scorso, una Pasqua dove si potrà fare nulla, mentre quella buona è appunto che quest'estate, così come è successo l'anno scorso, quest'estate probabilmente saremo fuori da questo tunnel e quest'estate potremo in qualche modo cercare di trascorrere un'estate quasi normale, anche se poi la normalità probabilmente dovrà arrivare prima nella nostra testa e poi piano piano di fatto. Però ecco, è importante già pensare alla normalità. Ci dà un po' di speranza, un po' di forza nell'andare avanti. fateci tornare in aula intanto, la rivolta degli zaini, manifestazione cortei flash mob in 35 città italiane contro la didattica a distanza. I genitori parlano di un aumento di depressione, di sparità tra i ragazzi, studenti in piazza ma spunta anche qualche professore. Qui siamo a Milano a una distesa di cartelle, di palloncini, campanelle per manifestare contro la didattica a distanza. Intanto, per questo che vi avevo segnalato e avevo preso questa pagina, non tanto per farvi vedere la piazza di Milano che è sempre bella, ma per farvi vedere invece questa bambina che a Trento, quindi siamo in montagna, a 10 anni, segue le lezioni con il padre a mille metri di quota. A casa è da sola e quindi non può ovviamente restare a 10 anni. Quassù al Pasquale invece impara ad adattarsi. Guardate con questo tavolino di fortuna il suo bel computer portatile, i fogli, il cappellino, il puffetto e ricorda molto chi, per chi ha la nostra età, ecco qua, Heidi con la sua capretta. Qui la mamma fa l'infermiera quindi non può portarla con sé in ospedale e di conseguenza va con il papà ai pascoli a mille metri di quota all'aria aperta, all'aria buona. È fortunata. Andiamo e torniamo invece sulle pagine locali. Il Corriere Adriatico siamo su Fano gestione di atta da riequilibrare sulla fusione non cambio idea. L'assessore regionale Aguzzi sul ritardo del piano d'ambito dei rifiuti parla di lacuna favorevole alle aziende. Dico che Aset e Marche Multiservizi devono collaborare ma del tutto fuori luogo ora il commissariamento. C'è un'intervista che Lorenzo Furlani ha realizzato appunto con Stefano Guzzi che parla appunto di questa fusione tra Marche Multiservizi e Aset che torna in qualche modo di moda perché già se ne parlava negli anni 2000 lui era sindaco di Fano a Guzzi e impedì questa fusione ma come assessore regionale all'ambiente di recente ha invitato le due aziende a collaborare. ha cambiato idea domanda Furlani all'assessore e a Guzzi risponde no non ho cambiato idea a suo tempo ho mantenuto Aset pubblica perché non intendevo sciogliere un'azienda che era un fiore all'occhiello di un territorio funzionava bene per i servizi pubblici locali come ancora funziona bene ed è ora ed era totalmente in mano pubblica lo è rimasta e questo è positivo rispetto a 15 anni fa molte esigenze però sono cambiate ma non ho chiesto di costituire un'azienda provinciale unica non sta a medirlo chi governa questi territori deve decidere mentre sulla pagina del pagina 6 del resto del carlino sempre su questo argomento fusione tra Aset e Amarca Multiservizi a Fano andrebbero 17 milioni di euro studio valuto all'operazione ma il segretario PD Bacchiocchi pare cadere dalle nuvole serve l'accordo di entrambe le aziende Fano si terrebbe cimiteri farmacie verde pubblico e parcheggi ma su questa fusione chiaramente noi che poi non siamo addetti ai lavori ma comunque su questa fusione bisognerà che qualcuno ce la racconti in modo preciso chiaro e non solo quello che fa comodo Fano accoglie i 417 nati del 2020 la chiave della città va ad ostetricia lettera di benvenuto a tutte le famiglie e cerimonia nella giornata della gentilezza la speranza nel primo giorno di primavera dopo il ricordo delle vittime del Covid-19 mentre sotto sul centro sulla ciclabile sulla ciclo quella che andrebbe sulla ferrovia ex ferrovia Fanurbino il centro-sinistra dice no alla pista ciclabile Spezzatino la Ruggeri Fano penalizzata da interessi di partito botta e risposta sulla ciclovia del Metauro in gioco l'inserimento del progetto dove abbiamo ricordato ci sono diversi milioni di euro in ballo a Monbaroccio invece intercettiamo più dei fondi attesi dalla fusione il sindaco Emanuele Petrucci che qui vedete nella fotografia all'interno del nostro programma Primo Cittadino che tra l'altro va in onda stasera con un altro sindaco Enrico Rossi di Cartoceto il sindaco di Monbaroccio conferma l'utilità del no alla fusione con Pesaro interventi per cultura e patrimonio storico per questa estate puntiamo sull'aspetto religioso di Dante e sui concerti in piazza e poi la sorpresa Urbino primo giorno di primavera ieri 21 marzo però con la neve è stato imbiancato ieri mattina l'Alto Metauro e anche il Monte Feltro ma possiamo dire senza particolari disagi mentre sulla pagina di Urbino del Corriere treno più veloce del Pullman forti potenzialità di sviluppo l'Avvocato Venditti confronta i tempi di percorrenza contrario chi teme l'asse Fano Urbino Alte Marche si alleano con Slow Food valori e obiettivi comuni siamo sulla sulla cronaca di Cagli mentre dalla pagina della Val Cesano da Marotta esempi brillanti come stelle ricordate le vittime di mafia iniziativa in videoconferenza della primaria Fantini con studenti e cittadini studenti e genitori poi un piccione morto aumenta l'invasione dei volatili a San Costanzo problemi igienici di decoro per la loro presenza nei centri questo è il piccione la carcassa del piccione morto vicino al parcheggio di piazza Perticare poi da Mondolfo addio all'ex comandante della polizia locale Tarcise Orenzoni aveva anche contribuito a rilanciare la cacciata il funerale oggi alle 15 a Sant'Agostino sarà celebrata dall'arciprete Don Emanuele Lauretani ancora dai giornali da Senigallia ex pescheria telecamere vetrate intesa sull'accesso sull'accesso dei magazzini soluzione sofferte i negozianti che usano i grottini dovranno uscire dal foro e raggiungerli dal lato biblioteca mentre sotto non più contagioso deve usare il kit covid dei rifiuti è positivo ma per l'Asur può uscire asintomatico da una settimana l'Alma Fano siamo allo sport la speranza e poi il naufragio l'Alma che ha perso ieri a Verona 3 a 1 tra volte dalla Virtus dopo un buon inizio ma la squadra di destro non riesce a reagire e a riportare il match in carreggiata e poi ricorda il giornale che adesso c'è il derby all'orizzonte in arrivo la Vispesero per una partita in cui i punti valgono doppio mentre Vispesero in casa che perde contro il Padova 2 a 0 una doppia tegola sulla Vis sconfitta in casa due infortuni i biancorossi non resistono al Padova e perdono tassi e stramaccioni in vista del derby con Fano e di un altro derby si parla anche il prossimo 28 marzo questa volta è di pallavolo la Vigilar che tra l'altro ieri ha vinto 3 a 0 in casa contro il Sama Porto Maggiore il 28 di marzo però chiuderà la regola season di pallavolo serie A3 con il derby con la Medstore macerata che è terza in questo momento la Medstore ha più 3 punti dai fanesi si giocherà il 28 di marzo alle ore 18 a macerata e sarà un grande derby poi Melandri qui siamo al MotoGP Melandri l'intervista di Riccardo Galli sul resto del Carlino Melandri sicuro sarà una stagione super Maccio lancia Quartararo il mio favorito dice ma crede in Marquez tornerà al top e Suvale dice si toglierà qualche soddisfazione allora già annunciato che questa sera c'è Primo Cittadino con Enrico Rossi il sindaco di Cartoceto poi naturalmente prima il telegiornale Occhio alla Notizia grazie dunque per averci seguito vi auguro una buona giornata e buona settimana a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti